Arriva dalla palla ovale una delle poche gioie del weekend di sport pesarese. Al Tecnovull Rugby Park la Fiorini Pesaro trova la seconda vittoria consecutiva vincendo lo scontro diretto con Villorba con un convincente 33-7 con il quale i kiwi giallorossi si impongono con grinta e concentrazione dal primo minuto prendendosi cinque punti in classifica costruiti su due metri di franco e una testa per Fusco, Leva e Giubert. Rugby a parte il weekend ha infilato una serie di delusioni iniziate il venerdì sera nel calcio 5 con la netta sconfitta dell'Ital Service per 5-1 in casa della Sandro Abate Avellino non addolcita dall'unica rete pesarese di Murillo Schiochette. Si ferma in maniera inattesa anche la vispesoro che passa dalla partita perfetta di Pescara a rianimare una recanatese che perdeva da sei gare consecutive. Una brutta vis cade 1-0 al Tubaldi e si fa male da sola perché il gol decisivo è una sciagurata autorete di Zagnoni con la complicità del portiere neri. Vische può consolarsi con una classifica che vede ridimensionarsi solo da 4 a 3 punti il margine sulla zona play-out. Peccato anche per la megavox Vallefoglia che nella serie A di volley perde 3-1 a Novara dopo essersi illusa vincendo il primo set 25-21. Le piemontesi però escono alla distanza imponendosi per 25-20, 25-15 e 25-13.